...ma sprint in alta montagna, eh? Incordata, tira, 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 ci siamo, dai, dai! Mamma mia, da vivo che fatica sta salita! Vai, vai, vai! Ma poi ragazzo, aveva preso un sacco di vento, eh? E in montagna cambia il tempo velocemente? Eh sì, anche troppo, ma ecco, c'è messa a piovere, con l'antichetta di scolaccia, vento, pioggia, freddo, però di cosa ci può succedere di peggio, eh? Ehi, appunta! Ecco come l'ho detto! Ah no! Al peggio non c'è limite! Fa... Fa bene! E poi è che paga il signore! Allora, che parla che non ha pagato, signore? No, no, io ho pagato l'altra volta, beh, e non neanche! Forza, Quilotti, fate una bella figura! Non che altro! Una figura da pirelli! Per praticare lo yoga occorrono forza, concentrazione, equilibrio... E soprattutto bisogna essere capaci! Attenzione al cappello! Peggio non poteva andare! Il cappello è minito in acqua, è lui per terra! Esercizio a due! Esercizio a due! Ginnastica! Che armonia di movimenti! Se voleva un primo piano, bastava chiederlo! Ma no, sta freccetta non mi frega, ti assicura, eh? Prima o poi, la chiappa! Ma no, vieni qua! Che tanto non mi scappi! Figuriamoci! Te prendi, te prendi, te prendi, te prendi! Te prendi, te prendi, te chiappa! Un uccino? Eh? Devo chiamare un uccino? Prossimamente nel cinema, un film bestiale che toccherà tutti i vostri sensi! Il lavapavimenti maledetto! Lo trovatore maledetto! Ahah! Non fa niente! Questo non fa niente! Vieni che va per conto su! Figurati! Ehi! Ehi! Non c'è! Non c'è il busso! Ah! Che terribile! Com'è il detto? Siamo tutti sulla stessa barca! E vabbè, innanzitutto vada piano! Ferma! A me sa che questo detto però non è sempre esatto! Questo ragazzo, ad esempio, sulla barca non c'è! E ora arrivano gli imprepidi canoisti! Guardami che roba! Eh, bello eh! Secondo me ne resterà solo uno! Manco quello! Questo capoccione vuole dimostrare di essere grande atleta! Ecco qua! Beh, non è un atleta! Però a giudicare la reazione del pubblico è un grande comito! Scusi capo! Guardi che è aperto di là il ponte! Non di lì! No! Ma dove va? Ma no! Ma così la rompe tutta! Sì, l'ha rotta tutta! Con il fuoco bisogna stare molto attenti! Ecco! Questa ragazza gioca con un accendino! Scusi! Scusi! Attenta! Oh no! È un fuoco! Signorina! C'è chi fa i colpi di sole e chi colpi di genio! Scusi! Scusi! Attenta! Oh no! È un fuoco! Signorina! C'è chi fa i colpi di sole e chi colpi di genio! Scusi! 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 What the f***! Ed ora country music! Che voce calda! Mi sa! Non solo! La voce! Attenta! Oh! Un vero professionista! Questo sì che ci sa fare! Si sa! Il ritorno di fiamma è sempre pericoloso. In una gara di quad tutto può succedere. Ma per un attimo è stato in testa. Ripetiamo. Il ragazzo vuole domare questo curioso mezzo. Ma che inciava, inciava. Capoccione. Guardate che gioco curioso fa questo centauro. Guardate. Cerco i perfetti. È proprio il caso di dirlo. Chi cerchia, prova. E imparo. Vediamoci dei simpatici burloni. Vai, ora tocca a te. Una bella doccia dopo una giornata di lavoro. Chi la fa? La aspetti. In palestra. Che cattivo. E fa pure finta di niente. Non piazzare. La buona amicizia. Lo sapevo. Rivediamo. La buona amicizia. Non si rifiuta mai. Un bel riposino fa sempre comodo. Mica tanto comodo. Ciao. Ciao. Allora. Ciao.